Ma la felicità, la felicità di avere Levante qui a Radio Bruno! Claudia, ciao! Che bello ritornare da voi, che bello! Stavo giusto ricordando di quest'estate al festival, è stato molto bello. Sono felice di essere con voi, poi soprattutto inaspettata, no? Perché non sono mica una concorrente al festival quest'anno, però passavo di qua ed eccomi. Passavi di qua, te la stai godendo alla grande. Perché le prime giornate al festival sono tutti abbastanza lucidi, sorridenti, senza l'occhiale da sole, tattico. Esattamente, ma anche voi, devo dire, siete freschi, vi vedo ancora riposati. So che risentendoci sabato potrebbe cambiare qualcosa. Però sì, diciamo che fuori concorso è sempre molto bello vivere le cose perché sei rilassato, non hai l'attenzione della sera, dell'esibizione. E questa è la prima volta che mi succede. Però magari c'è qualcuno in gara che ti ha chiesto dei consigli, visto che... Devo dire che no, no, non mi è successo. Ho degli amici santi francesi che partecipano per la prima volta, ma li vedo molto tosti, molto sicuri di quello che faranno sul palco. E poi, sai, quando arrivi a Sanremo hai comunque la tua crew che ti protegge, ti spiega, sono tutti preparati, non c'è niente da scoprire, secondo me. Subito dopo questa tappa sanremese riparte a breve il tour nei teatri. Sì, riparte il tour nei teatri dal 10 marzo, la data zero di Isernia, poi Livorno e via dicendo per tutta Italia, da nord a sud nei teatri. Sono molto felice, sono 23 tappe per il momento. E poi il 23 febbraio uscirà questa lunga intervista, che si intitola 23 anni di voli pindarici, in cui racconto un po' che cos'è stato questo 2023 per me, questo appena passato molto intenso tra altissimi e bassissimi, con dei documenti videografici che sono usciti dai telefonini di tutte le persone che mi gravitavano attorno durante questo anno, con di mezzo anche il Sanremo del 2023, quindi vivo la mia bionditudine e anche l'Arena di Verona, no? che è stata una pietra a miliardi del mio percorso dopo 10 anni dall'esordio di Alfonso arrivare all'Arena è stato un grande traguardo, veramente bello. Hai citato insomma dei palchi importantissimi, ma nel cassetto ancora un sogno, una collaborazione, una canzone che stai pensando? Sì, beh io ho tanti sogni, quando sei sognatore non si smette mai di avere sogni nel cassetto, anche perché una volta realizzato uno ne spuntano altri cento pronti a voler nascere. Collaborazioni ne sogno tante, ma dai grandi nomi, della musica italiana, mi viene in mente, qualche giorno fa pensavo a Conte, mi piacerebbe tantissimo cantare con Conte, però sono anche una persona molto timida e rispettosa nei riguardi di questi artisti, quindi non oso mai, non vado mai oltre l'ammirazione, non cerco il contatto, peccato perché magari avrei potuto approfittare a volte, invece non l'ho mai fatto. E poi nel mio cassetto ci sono sogni come il cinema, continuare a scrivere, a musicare i film, come ho fatto per Romantica e per il film di Pilar Fogliati, e chi lo sa, magari un giorno reciterò anche. E certo, anche perché è un viso incredibile per il cinema, e se hai stata anche un volto televisivo importante, anche quel ruolo è bello. È bello, la televisione è molto bella, ha dei ritmi che forse io non sono molto brava a gestire, ma credo che si tratti anche di esperienza. Quando l'ho fatta io per X Factor mi sono anche un po' sentito un pesce fuor d'acqua, però era anche la mia prima volta, le mie prime dirette, in un ruolo anche molto difficile, giudicare qualcuno ed essere, rimanere sempre coerente, insomma è tutto molto strano, quindi forse mi dovrei dare delle altre chance, ma per adesso ho così tante cose da fare in questo 2024 che magari ne riparliamo poi in futuro. Altrimenti si fa tutto subito, infatti, c'è così tanto tempo, però di sogni ne ho tanti, veramente tanti, ma anche al di fuori dello spettacolo, cioè vorrei riscrivermi all'università, vorrei tante cose. Insomma una fase di elaborazione, di cambiamento, di evoluzione. Sì, siamo sempre in cambiamento, io tutti i giorni quando apro gli occhi e sono grata di essere ancora qua, perché non do niente per scontato, sogno di essere sempre qualcos'altro, non nella continua ricerca come se fossi infelice, ma felice di essere già stata quello che ero ieri, sogno di andare oltre me. Bene, evitabile il tuo spirito creativo. Sì. E con questo ci salutiamo, grazie mille. Grazie di cuore, grazie, grazie Radio Bruno. Grazie.